La rassegna stampa è offerta da Pama Arredamenti, zona industriale, località Sant'Antuono, Polla, Salerno. Buongiorno e buon giovedì e bentrovati con il nostro appuntamento consueto con la rassegna stampa di Uno News. Sfogliamo le pagine dei quotidiani sulla prima pagina del mattino nazionale, la decisione del Parlamento con il sì all'invio di nuove armi in Ucraina. Vediamo il titolo, armi all'Ucraina, PD diviso. Ok agli aiuti per il 2024, Otto Dem contro la linea di astensione chiesta dalla segretaria Schlein, Casini no a giochi politici. E poi il caso H. Larenzi a piante e dosi, tradito lo spirito di commemorazione, duello in aula con Ellie Schlein. Andiamo avanti, ci spostiamo sul fronte di Gaza, si usa al piano Qatar, terroristi in esilio. Il governo di Netanyahu sotto accusa a Laia, genocidio in atto. Altro tema, torniamo in Italia, Balneari arriva l'apertura di Salvini in Denizia, che ha investito per quanto riguarda la concorrenza, la mediazione con l'Unione Europea. E spostiamoci ora di fondo l'analisi. Il ruolo che l'Italia può avere in Europa, si discute di candidature per le elezioni europee e molto poco di futuro dell'Europa. Eppure il momento non è dei più facili e ci potrebbero essere per l'Italia sia contingenze positive da sfruttare, sia difficoltà per cui è opportuno attrezzarsi. Andiamo avanti, lo scenario, narcogolpe in Ecuador, una sfida drammatica. A centro pagina, cambiamo argomento, ci spostiamo ora nel Salernitano, La mia bambina rapita e liberata, il giallo a Salerno, i dubbi degli inquirenti sul racconto della donna, sulla dodicenne, tracce di violenza subite in passato. E poi a Napoli, Raida al Cotugno, due operatori picchiati in corsia. Per quanto riguarda invece il calcio, ci spostiamo sulla fotonotizia. Osi Quara, c'eravamo tanto amati, furibonda l'It e social, dopo le dichiarazioni dell'agente del Giorgiano. Andiamo in basso, la suggestione, la villa imperiale di Bacoli, dove sorgeva l'ecomostro. La suggestione era quella di Plinio il Vecchio. La scoperta è avvenuta in un'area dove c'era un ecomostro, con colate di cemento in spiaggia e in mare. Una villa romana d'epoca imperiale, affacciata sul mare di Miseno. Una meraviglia del primo secolo d.C., scrive sui social il sindaco di Bacoli della Ragione. E la sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, parla di una scoperta archeologica di portata eccezionale. La suggestione era la residenza di Plinio il Vecchio. Da qua vide l'eruzione del Vesuvio. E chiudiamo questa pagina, la prima pagina del mattino nazionale. Ora invece ci spostiamo sulla prima pagina del mattino di Salerno. Vediamo, in apertura si continua a parlare del piano di dimensionamento scolastico. C'è ancora la rivolta delle mamme. Vediamo, scuola, la rivolta delle mamme. Tavolo al comune sul caso Giovi e Ogliara. Fumata grigia e protesta a Palazzo di Città. Genitori sulle barricate. No allo smembramento dell'istituto. Non manderemo i nostri figli in classe. E poi l'altro fronte. Intanto a Ponte Cagnano, famiglia in piazza per le elezioni di cittadinanza. Questa mattina la comunità del comprensorio Eleonora Pimentel Fonseca di Ponte Cagnano-Faiano si ritroverà in piazza sabato per una lezione pubblica di cittadinanza. Andiamo avanti. La sanità, aggressioni ai sanitari. Un comitato dal prefetto. Di fondo invece la politica provincia. Ecco il nuovo consiglio. Guzzo sarà il vice di Alfiere. Provincia ha insediato il nuovo consiglio. Ieri mattina la convalida degli eletti a Palazzo Sant'Agostino dopo l'elezione del 20 dicembre di 16 consiglieri. Prossimo step. L'attribuzione delle deleghe è attesa per la prossima settimana da parte del presidente Franco Alfieri con Giovanni Guzzo, recordman di preferenze, in poll per la vicepresidenza. Andiamo avanti. La nomina Salerno Sistemi, Ferrazzano alla presidenza, CDA con Mazzeo. Le notizie invece riportate a centropagina. La storia picchia la moglie e prova a strozzarla davanti alle figlie. Orrore. Tra le mura domestiche, 44 anni a processo, anche le bambine vittime dei soprusi del padre. Le minacce. Ti lancio dalla finestra. Ancora le violenze in un provvedimento ogni due giorni. Chi denuncia viene protetto. Questo per quanto riguarda i numeri dei carabinieri del comando provinciale. Andiamo ora nella fotonotizia. Il calcio, mercato. Sabatini punta su basi. Cegli Ervolino sogna il modello Red Bull cordata con altri imprenditori. In basso, la curiosità. Ravello, l'idea del sindaco. Stoppa ai tassisti con più di 70 anni. Ulmer pronto a cambiare le regole. Sicurezza per passeggeri e operatori. Nella fotonotizia invece il fenomeno. Cilentana KO basta disagi, traslochiamo. Questa è la prima pagina della mattina di Salerno. Vediamo ora invece i principali titoli per il quotidiano. Le cronache, due le notizie in apertura. Vediamo il convegno di Eboli. In nome del padre, Guglielmo Scarlato, dici nessuna nostalgia. Basta con i politici calati dall'alto. E poi invece per quanto riguarda il calcio, sempre in primo piano troviamo invece la notizia della Salernitana. Il DG mette sul tavolo nomi pesanti. Il canguro, interesse di Iervolino su un club australiano. La Mela e Belotti. Sabatini sogna il duo. Andiamo avanti. Il fatto, progressioni verticali ad Orfo Abate. No al punteggio per gli incarichi conferiti. A centro pagina, provincia. Guzzo, vice di Alfieri. Andiamo verso la continuità. Polemiche con Fratelli d'Italia sulle quote rosa. Le donne con noi devono limitarsi solo a fare le comparse. E poi ancora Salerno. I genitori del quinto circolo di Ogliarra al Comune. Il sindaco. Chi vi ha invitato? Salerno, dimensionamento scolastico. C'è lo scontro. Le altre notizie. Siamo in basso. L'intervista a Luca Abete. Hashtag non ci ferma nessuno. E poi San Severino. Romano attacca sul 118. Fermo al palo. Disaggi per i soccorsi. Aolevano sul Tusciano. Il sindaco Ciliberti. La sicurezza è la nostra priorità. Salerno, sistemi. Ferrazzano diventa presidente. Mazzeo entra nel CDA. E poi il fatto. La clementina tardiva. Medi in battipaglia. Questi i titoli con cui apre oggi il quotidiano Le Cronache. Torniamo ora sul mattino nazionale. Parliamo, vediamo le notizie in primo piano. Partendo dalla guerra in Medio Oriente. Vediamo il titolo per le pagine di primo piano. Spinta a USA. Piano Qatar. Pace in cambio di ostaggi. Tel Aviv esamina la proposta. L'esilio dei capi di Hamas e il ritiro delle truppe. Blinken in Cisgiordania ed Egitto per discutere del futuro Stato palestinese. Abu Mazen accetta la proposta americana per riformare l'autorità ed avere un ruolo nel post-conflitto. Vediamo ancora la freddezza dei terroristi sulle proposte di Doha illusorio portare in esilio la resistenza. In basso il più potente attacco degli Uti rischio polveriera nel Mar Rosso. Cargo preso di mira dai ribelli missili partiti dallo Yemen abbattuti dalla marina di USA e Inghilterra. Questi titoli sulla pagina di primo piano. Andiamo avanti. Torniamo però in Italia. Per quanto riguarda l'altra guerra, la guerra in Ucraina, c'è il sì del Parlamento all'invio di nuove armi. Vediamo il titolo. Le tensioni nel centro-sinistra. Nuove armi all'Ucraina. Il sì manda in tilt il PD. Fronda contro la linea Ellie. Autorizzati gli aiuti per il 2024. Crosetto. Il passo indietro sarebbe errore strategico. Otto dem rifiutano di astenersi su Kiev. Casini. No a giochi politici inaccettabili. Nel testo del governo riferimento ad una pace equilibrata e duratura. Il nazareno vuole contendere a Conte i voti dell'elettorato pacifista. Il Movimento 5 Stelle chiedeva il cessate. Il fuoco. E andiamo poi in basso. Rachele Mussolini e l'amica di Arianna Meloni. Cerca donne per le europee. Fratelli d'Italia prepara la valanga rosa da mettere in lista per il voto di Bruxelles. Vediamo chi sono i nomi. Come abbiamo detto Rachele Mussolini, Elena Donazan, Micol Grasselli, Chiara Gemma, Irafele ed Elisabetta Gardini. Questi sono i possibili nomi delle candidate europee per Fratelli d'Italia. Chiudiamo questa pagina. Andiamo avanti. Siamo ora nel Salernitano. Il caso della ragazzina sequestrata e poi liberata. Lo abbiamo visto anche dalla prima pagina. vediamo sequestrata fuori scuola e liberata al cimitero. Il giallo della dodicenne. Battipaglia. I dubbi degli inquirenti sul racconto della madre della ragazzina. Incappucciata e portata via all'uscita si sospettano precedenti abusi sessuali. Un episodio simile già a maggio 2023 si indaga sul contesto familiare e su possibili vendette. Tutto da verificare il racconto della mamma della dodicenne che sarebbe stata sequestrata all'uscita da scuola. Una vicenda che si tinge di mistero dopo che la donna lunedì pomeriggio si è recata insieme alla figlia all'ospedale Santa Maria della Spedanza a Battipaglia. Poliziotta ha raccontato che la ragazzina una volta uscita da scuola nella città capofila della Piana del Sele dove attualmente abitavano a Bellizzi è stata incappucciata, caricata di forza su un'autovettura per poi essere lasciata davanti al cimitero San Martino a Monte Corvino Rovella. Questo è il racconto della madre agli inquirenti. Andiamo in basso invece ancora la cronaca, il caso Erba, i nuovi testimoni, abbiamo visto tre uomini che uscivano dalla casa. In strada c'erano due stranieri che discutevano, mi ero affacciato alla finestra e li ho visti da lontano. La casa del delitto era la centrale dello spaccio, lì era custodita la droga, Raffaella Castagna nascondeva i soldi. In cella Azuz mi ha detto di proteggere Raffaella e il figlio, mi ero sembrato molto spaventato per la loro sorte. Poi ancora uno diceva all'altro di scappare, parlavano in arabo, sono saliti a bordo del camioncino e sono andati via. La revisione del processo, secondo un italiano e un nordafricano, se ne andarono con un furgone. Queste insomma alcune delle frasi che hanno portato alla riapertura del processo di Erba. E ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati in studio, ben ritrovati con la seconda parte della rassegna stampa, vediamo quali sono quindi le principali notizie per il salernitano. Siamo sul mattino di Salerno, il caso, i casi delle violenze sulle donne, anche il bilancio dei carabinieri del comando provinciale. Una pagina interamente dedicata proprio al tema, vediamo, picchia e tenta di strangolare la moglie dinanzi alle figlie. Questo l'ennesimo caso di violenza sulle donne, orrore e paura tra le mura domestiche. Ora va a processo un 44enne salernitano, anche le bambine di 3 e 5 anni vittime dei soprusi quotidiani del padre. Ti ammazzo, ti lancio dal settimo piano. L'uomo ha anche cercato di portare via con se le piccole con la forza. E poi un altro caso, vediamo, aggredita dall'ex fidanzato mentre lavora nel ristorante. La giovane ha salita in piazza Flavio Gioia, il 21enne, la ferra per la gora e la schiaffeggia davanti ai clienti. L'ha raggiunta all'interno di uno dei locali di piazza Flavio Gioia, dove lei lavora come cassiere. Ha preteso di controllare il suo telefono cellulare. Lei è una 23enne salernitana, si è rifiutata di consegnare il telefono al fidanzato. Così lui, un 21enne pakistano, glielo ha strappato di mano con la forza. Dopo aver letto una chat, l'ha aggredita afferrandola. Andiamo in basso, un provvedimento ogni due giorni. Chi denuncia abusi viene protetto. Il report dell'arma negli ultimi 40 giorni sono state emesse 21 misure cautelari per atti persecutori e maltrattamenti. Attenzione alta. Lasciamo questa pagina, andiamo ora avanti ancora con il mattino di Salerno. Vediamo, parliamo ora invece di politica. Si è insediato il nuovo consiglio provinciale dopo le elezioni che si sono svolte lo scorso 20 dicembre. Vediamo, provincia, ecco il consiglio. Un anno da protagonisti. Guzzo sarà il vice di Archeri. Ripartenza all'insegna della continuità. Sfida rilancio con le risorse del PNRR. L'esordio di Aliberti, battaglia sanità, ho chiesto al Presidente di supportarci. Quindi il primo impegno del nuovo consigliere provinciale di Forza Italia, Pasquale Aliberti. I socialisti avvertono esiste una coalizione con noi democratici e moderati. E Fratelli d'Italia va all'attacco sulle quote rosa. E andiamo in basso. Salerno Sistemi, Ferrazzano al vertice della holding. E Nico Mazzeo entra nel CDA. Nel 2011 fu candidata contro De Luca. Poi incarichi all'Asia e all'aeroporto. Grande responsabilità e massimo impegno. Lasciamo questa pagina. Andiamo avanti ancora sul quotidiano il mattino. Vediamo ora le notizie invece per l'area della Piana del Sele, dei Picentini, del Cilento e del Vallo di Diano. In apertura si parla ancora del caso Cilentana con quelli che potrebbero essere i risvolti della chiusura della strada. Vediamo effetto Cilentana chiusa, noi pronti a traslocare per scongiurare i disagi. Boom di richieste di affitto nel centro vallese e aree limitrofe per raccorciare i tempi di percorrenza verso le scuole e il lavoro. E' boom di richieste di appartamenti a Vallo della Lucania con la chiusura della Cilentana nel tratto Vallo Massicelle. Molte famiglie del Basso Cilento, soprattutto di Marina di Camerota, sono intenzionate a trasferirsi nel centro cilentano. Si tratta soprattutto di genitori che vogliono evitare ai propri figli i disagi di dover attraversare la statale 18 o viaggiare in treno per raggiungere gli istituti scolastici. Andiamo a Eboli, scappa da scuola, ritrovato in stazione. Poi a centropagina siamo a Battipaglia, pista ciclabile e polemiche, scollegata e non sicura. Per le altre notizie in basso, Capaccio Pestum, rifiuti, comune indietro con i pagamenti, Sarim non anticiperemo gli stipendi. E per quanto riguarda lidi e ristoranti abusivi, siamo sempre a Capaccio Pestum, ci sono, si conta 1,7 milioni di evasioni. Di spalla, Agropoli, condotta sottomarina, riemersa al Largo e poi a Sassano, primi operai a lavoro per il ponte Caiazzano. Queste sono le pagine, alcune delle notizie che troverete pubblicate sul quotidiano il mattino. Andiamo ora sul quotidiano Le Cronache, anche qui si parla dell'insediamento del nuovo consiglio provinciale. Sarà molto probabilmente Giovanni Guzzo, il vice del presidente della provincia Alfieri. Vediamo provincia Guzzo, vice di Alfieri. Questo è il titolo per il quotidiano Le Cronache. Andiamo verso la continuità, l'appello del presidente, le priorità sono oggettive, pronti ad ascoltare anche l'opposizione sulle varie questioni. Gioiella di Fratelli d'Italia intanto attacca il PD, elezioni a Bubazza, donne candidate con zero voti. Parità di genere, le donne con voi devono limitarsi solo a fare le comparse. Salvo colpi di scena dell'ultimo minuto dovrebbe essere Giovanni Guzzo, il vice presidente della provincia, anche per quest'altro mandato. È quanto ha lasciato intendere il presidente Franco Alfieri nella prima seduta del consiglio provinciale, proclamato eletto a seguito delle elezioni di mercoledì 20 dicembre 2023 con la convalida dei 16 consiglieri eletti. Ci spostiamo poi in basso Rocca Piemonte, l'ex assessore Luisa Trezza, querela il sindaco, accuse infondate contro Di Mese. Secondo il primo cittadino la consigliera avrebbe pubblicato il libro dopo aver prelevato documenti conservati. E chiudiamo questa pagina, restiamo sempre sul quotidiano le cronache, parliamo ora invece dell'ospedale di Eboli. Continua la battaglia per il suo mantenimento, vediamo la regione saprà riconoscere il valore dell'ospedale di Eboli. Il presidente di Commissione, Matteo Balestrieri, dopo un incontro al Ministero della Salute. Dopo il contatto con il Ministero ora si punta ad avere un faccia a faccia con i vertici regionali chiamati a decidere sul futuro del Presidio Santissima Addolorata, consegnato un report completo dell'importanza dell'ospedale di Eboli per il territorio. Andiamo in basso, patrimonio, in arrivo al Comune due beni confiscati definitivamente alla criminalità organizzata. Si tratta di due villette che l'ente comunale utilizzerà per ospettare iniziative di carattere sociale, economico e culturale. Il Comune di Eboli aderisce alla manifestazione di interessi a cui si riferisce una già consumata conferenza dei servizi tenutasi lo scorso 3 luglio 2023 presso la Prefettura di Napoli. La manifestazione di interesse si riferisce all'acquisizione e all'utilizzo di beni definitivamente confiscati alla criminalità organizzata. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti ancora con le notizie sulle crona che ci spostiamo ora a Battipaglia. Vediamo sostenibilità urbana, Battipaglia punta alla riqualificazione del Verde. È stato l'ultimo atto prima delle dimissioni dell'assessore Paolo Palo, ravvisata l'importanza dell'ambiente. Si continua a monitorare la salute dei numerosi alberi ad alto fusto cittadini. La città sarà dotata di un vero e proprio polmone verde, obiettivo è la dimensione europea. In basso siamo a Capaccio Pestum, allarme dell'accisa FIAD sugli stipendi e agli operai, ma il sindaco minimizza la sigla sindacale in calza. Noi pronti allo stato di agitazione, da un anno i canoni non vengono pagati. E chiudiamo anche questa pagina, termina qui la nostra rassegna stampa. Io vi ricordo l'appuntamento alle 13.45 con il nostro TG. Grazie per averci seguito, auguro a tutti una buona giornata. Grazie per averci seguito, auguro a tutti.